la chiesa e ma presa ma colpito senza milio non posso nemmeno fare niente no senza milio non mi dovrei fare aspetta l'aereo non vorrei che c'è troppo contesto a 35 su dai 2 lo vedo lo vedo ma ha buttato giù ma ha buttato giù no vieni qua vieni qua lascia aperto ma la moglie va che cazzo vai dai che ridi tu